In particolare il Presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto un intervento molto interessante in cui ha detto io sono andato in Ucraina e ho chiesto ma voi come mai ci sono tanti paesi che non sostengono la vostra causa nel mondo? E gli ho chiesto ma voi ci avete parlato? Voi li avete avvicinati? La risposta è stata no. E nella discussione che c'è stata si è visto subito come ci fosse desiderio di essere coinvolti. Poi sapete alcuni di questi paesi sono poveri, mi viene sempre in mente un proverbio africano che veniva citato a metà degli anni 80 quando era la Banca Mondiale. Diceva quando gli elefanti lottano è l'erba che soffre e quindi se i paesi si sentono erba soffrono e è difficile chiedere loro di prendere parte. Il G20 anche lì è stato molto importante vedersi perché siamo riusciti a concordare una linea comune che è sostanzialmente quella di prima di tutto aiutare il Presidente Vidoco.